Ciao, benvenuti in questa diretta, allora, oggi è una diretta un po' particolare, perché vi voglio spiegare i post che ho messo oggi, perché tra ieri e oggi ho messo un po' di post, no? Allora, chi mi conosce lo sa che io non sono né negazionista e né governativo, siccome da un lato ho attaccato il governo, per par condicio dall'altra parte ho attaccato i negazionisti e mi sembra giusto, quindi non vi arrabbiate, chicco è contro tutti, chicco contro tutti. Allora, per i negazionisti, visto che io sto cominciando a leggere, ecco perché in questa diretta in realtà parlerò di una serie di argomenti. Allora, in pratica, i negazionisti su Facebook, chi non l'ha mai letto, dicono che il coronavirus è meno pericoloso dell'influenza, no? Quando in realtà, faccio un esempio per l'Italia, in Italia l'influenza non ha mai causato più di 16,5 decessi ogni 100.000 abitanti all'anno e invece col Covid siamo già arrivati a 63 decessi ogni 100.000 abitanti, 63 decessi ogni 100.000 abitanti, no? Allora, giusto, voi andate a vedere le guerre, così avete il paragone giusto, no? Nelle guerre si sparano missili, nelle guerre si utilizzano mitra, carri armati, voglio dire. Quei morti non puoi dire che non ci sono, no? Sono evidenti, ci sono le riprese, chiunque può vederli. Allora, sono andato a vedermi, giusto, in Siria, che ha la metà della popolazione italiana, aveva prima della guerra, mi sembra. Quanti decessi ci sono stati in Siria? Aspettate, la metà lo dico io, però, perché me lo ricordo, io poi dopo, aspettate un secondo, arrivo a Siria, abitanti dieci anni fa, ma come faccio a trovarlo? Troverò gli abitanti di adesso, non di dieci anni fa, perché poi ci sono stati 11 milioni di sfollati, adesso sono 16 milioni, ecco, aggiungetegli 11 milioni di sfollati, prima della guerra erano 27 milioni, ecco, facciamo 30 milioni per arrotondare, giusto, ho detto giusto, è la metà degli italiani, no? Ecco, quindi una popolazione, metà degli italiani, prima della guerra, un po' più della metà, forse io non lo posso sapere, dovrei andare a cercare, perché magari erano anche di più, ecco, hanno avuto in circa 38 mila decessi in guerra all'anno, no? Quindi, in dieci anni, 384 mila, no? Allora, al giorno d'oggi, potreste vedere dei negazionisti siriani che negano l'esistenza della guerra e dicono, ma no, è meno mortale dell'influenza, cioè, voglio dire, ti sparano in testa, è meno mortale dell'influenza, perché i dati sono questi qui, ecco, voglio dire, ecco, anche perché io ho detto Siria, in quella zona medio orientale non c'è solo la Siria, ecco, voglio dire, ci sono anche altre, le nazioni confinanti con la Siria, vabbè, comunque, la stoccata contro i negazionisti è questa, e per adesso mi fermo qui, se qualcuno contesta questo che ho scritto qui, ecco, potrei infiedire ulteriormente facendo altre ricerche, no? Ecco, poi andiamo avanti, secondo post che è molto importante, allora, questa notizia è vera, io infatti l'ho postata tempo fa, che una parte del recovery fund andrà per spese militari, però queste spese militari per cosa sono? Allora, ebbene, questo governo, sia il governo Movimento 5 Stelle Lega, che il governo Movimento 5 Stelle PD, no? Hanno sempre appoggiato i nuovi progetti militari, e quali sono i nuovi progetti militari? E questo è assurdo, perché il Movimento 5 Stelle era contro l'acquisto degli F24, e adesso invece, ecco, come ha detto anche il ministro dell'epoca quando c'era la Lega, no? Ecco, monitorare il territorio italiano, quindi ci vuole IoT, internet delle cose, machine to machine, tecnologia macchina, comunicazioni da macchina a macchina, il 5G ovviamente per potenziare questo sistema, del controllo del territorio, progetti di robotica e intelligenza artificiale per il controllo del territorio italiano. Ma controllo del territorio italiano, no? Significa che il nuovo target, ma questo non è solo il Movimento 5 Stelle, o che sia il PD, o che sia la Lega, perché questo sta succedendo in tutto il mondo, stanno prendendo a modello la Cina, perché la Cina è stata la prima a fare questo, no? Che in pratica si cambia il target del nemico. Una volta il nemico era un paese estero, per dire nemico degli Stati Uniti era la Russia o la Cina, il nemico dell'Italia poteva essere la Francia, la Germania, quindi comunque noi rafforzavamo i nostri confini per difenderci dalla Francia e dalla Germania. Invece il nuovo nemico di adesso, indovinate chi è? È il popolo, siamo noi. A cosa serve il 5G? A cosa servono? Che tutto sia collegato su internet, machine to machine, i progetti di robotica, dei robot che girano per strada e controllano i cittadini, a cosa servono? Questi robot che ci sono già in giro, date vedere negli Stati Uniti, ci sono dei robot sperimentali che controllano se nei parchi indossano la mascherina oppure no, andate a vederli, non mi ricordo dove, mi sembra negli Stati Uniti. Ecco, è intelligenza artificiale per il controllo del territorio, controllo dei cittadini, no? Allora voi immaginatevi una dittatura del futuro fantascientifica come quella che si vede nei film, praticamente come quella che si vede nei film, dove tutto il popolo è controllato dalle macchine. Ecco, quindi basteranno solo pochi al governo, un'elita al potere, che potrà finalmente avere il controllo totale delle masse grazie al 5G, machine, tecnologie machine to machine, macchina a macchina, con l'internet delle cose, collegando tutti gli oggetti ad internet, robotica, sostituire il lavoro umano con il lavoro della macchina, fino al punto che l'essere umano non potrà più lavorare, ecco, e l'intelligenza artificiale, voglio dire, no? Che controllerà, e ci verranno a dire le macchine, cosa noi dobbiamo fare, che cosa per noi è giusto fare. Ecco, Quando faccio le dirette mi dimentico di mettere questa impostazione, che adesso metto di non disturbare, ecco dov'è, ecco veloce, ecco perché questa diretta, questa diretta adesso è lunga, aspettate, ecco, non disturbare, è fatto? Allora, andiamo avanti, così vi spiego i miei post, no? Perché magari ci può essere qualche fraintendimento. Allora, andiamo a questo qui, politica estera, Biden e Pelosi hanno pubblicamente confessato, che le elezioni americane sono truccate, ecco, dal partito democratico. Questo è vero, voi andate a vedervelo, qua ci ho messo, ecco, diciamo, i link, la Pelosi sullo testo, no? Qualsiasi sia il conteggio finale dei voti di martedì, Biden sarà eletto, cioè proprio perché, con i brogli elettorali. Invece, addirittura, Biden fa proprio una gaffe, ecco, ve la, ve la, ecco qui il video, ecco, mettiamo l'audio. inutile che ve lo faccio risentire, è poco equivoco Biden, praticamente ha detto in inglese che abbiamo messo su la più estesa organizzazione per i brogli elettorali nella storia della politica americana, questo è quello che ha appena detto, e questo è il testo in inglese, Biden, Biden ha confessato, dicono che è un lapsus, ma in realtà è una confessione, come le confessioni che fa Bill Gates, ogni tanto, ecco, ma qua non voglio uscire fuori tema, quando Bill Gates dice che ci sarà una guerra batteriologica è una confessione delle sue intenzioni, ahimè sulla nostra pellaccia. Allora, mentre i cinesi, questa qui non volevo metterla perché è una mezza bufala, cioè in pratica è vero che il vice ministro dell'economia ha detto quelle frasi, ma lei intendeva, diciamo, è stato un po' gonfiato quello che lei ha detto, anche se comunque non andava bene secondo me quello che ha detto, no? Cioè, allora in pratica, mentre i cinesi con l'auti aiuti del governo cinese comprano dai ristoratori italiani in banca rotta costretti a vendere, ecco invece cosa dicono i nostri governanti, questa qui è la mia critica, ovviamente in generale a me non mi interessa chi ci sia al governo, se sia la Castelli della Lega, una della Lega che si chiama Castelli, oppure che sia del Movimento 5 Stelle o che sia di Forza Italia o che sia del PD, io sono critico con tutti, infatti qua sotto lo specifico perché io so che con molti amici 5 Stelle si potrebbero offendere, allora a dire il vero le affermazioni della Castelli sono state un po' gonfiate, se andate a rivedere il video, ma è grave che il vice ministro dell'economia non conosca la difficoltà dei ristoranti e bari italiani che ormai vengono venduti da anni ai cinesi, il governo dovrebbe aiutare invece i ristoratori a mantenere la propria attività in concorrenza del governo cinese, la mia è una critica, non mi interessa che ci sia il governo al posto della Castelli, ma che governi bene, e quindi non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa, ecco io sono critico con tutti, ecco l'avete visto, a me non mi interessa la propaganda, non mi interessano le squadre di calcio, non mi interessa fare, mi dissocio completamente da questo tifo dei politici, ecco che siano della Lega, del Movimento 5 Stelle, del PD o quello che cavolo volete voi, mi dissocio totalmente, ecco questo qui, ho dovuto scrivere a mal in cuore, perché altrimenti avrei perso un sacco di amicizie, ecco voglio dire, ma perché? Perché uno è tifoso dei politici, e non dei fatti, ecco non guarda i fatti, qua è inutile che lo ripeto, perché l'ho fatto anche qua su questo argomento altre dirette, ecco il fatto che io sostengo a insistere, continuo a insistere, che il boom dei contagi e dei decessi di adesso, la colpa è dei mezzi pubblici, poi a me non interessa chi li ha gestiti, sono stati gestiti male, regione, comune, nazione, io non partecipo a questa gara con la palla delle responsabilità, questa gara con la palla delle responsabilità, che si è vista da 30 anni che in politica si fa questo, non è una novità, ecco io su internet vedo i tifosi, dei politici che fanno questo rimbalzo della palla della responsabilità, a me interessa che le cose siano fatte bene, le mie sono critiche affinché magari il governo migliori, non mi interessa che governo c'è in questo momento, ecco di far cadere e far salire, non mi interessa, ecco lo voglio chiarire, allora in pratica vabbè la solita storia dei mezzi pubblici, è inutile che la ripeto perché ho fatto tante dirette, chi le ha viste lo sa, ecco, in pratica quello che ho detto io, la novità è che questo articolo qui fa vedere che anche il comitato tecnico scientifico mi dà ragione, e aveva avvisato il governo, il comitato tecnico scientifico aveva avvisato il governo di non aumentare i mezzi pubblici, non aumentare i mezzi pubblici, su questo argomento qui, ecco vabbè, ci ritorno dopo perché adesso devo farvi vedere un altro post, sto commentando i vari post che ho messo tra ieri e oggi, allora, carenza di vitamina D per oltre l'80% di pazienti ricoverati, questa è una ricerca che hanno fatto in Spagna, hanno scoperto che l'80% dei ricoverati malati covid avevano carenze di vitamine, ecco, poi voglio dire, io qua, vabbè, la festa di Halloween ci ho messo le caramelle, i bambini che sono corsi a prendersi le caramelle, è stata una scenetta divertente, che ieri mi sono divertito tantissimo, vabbè, lasciamo perdere, allora, quest'altro post qui, io mi sono confessato, io sono stato ammalato 20 giorni ad ottobre, i primi 20 giorni d'ottobre, diciamo 15 giorni, dopo il 5 ottobre circa, ecco, non mi ricordo, comunque all'incirca 15 giorni che sono stato un'influenza fortissima che ho avuto, e ho fatto un sacco di intrugli per guarire, e tra questi intrugli qua consiglio anche una cosa che ho fatto, ecco, che in pratica purificare i polmoni, no, con l'aereo sol, caramelle alla menta, ecco, e vari sistemi, ecco, ma io ho usato anche le vitamine, infatti qui, mio amico Carlo Villari dice, eh, ma ci sono anche le vitamine, ecco, la vitamina C, ecco, io prendo, mangio anche arance, ananas, nelle altre dirette, non so se avevate visto lì, lì sopra sul tavolo c'era un'ananas, perché io addirittura ero arrivato a mangiare un'ananas al giorno, quindi vitamine, ecco, io sono d'accordo sul discorso che le vitamine, ecco, aiutano in questi casi qui, allora, questa è sempre la solita storia, che io faccio un riassunto generale, dico, che la situazione non è più come marzo se la vai a confrontare, no? Le terapie intensive, ma comunque ci si dovrebbe lamentare con chi ha aperto le scuole a settembre, con tutto che sapevano che a settembre sarebbe, poteva venire una seconda ondata, tutti lo dicevano, guarda che a settembre può venire una seconda ondata, guarda che a settembre può venire una seconda ondata, queste scuole non si potevano aprire a ottobre oppure a novembre, no, a settembre hanno aperto le scuole, ma non è questa la cosa grave, perché comunque le scuole sono state messe in sicurezza, la cosa che io ho sempre lamentato quest'estate, lo dicevo, ma non solo io, tante persone, ma tu metti in sicurezza le scuole, però prima della scuola e dopo la scuola cosa succede? Cosa fanno tutti gli studenti prima della scuola e dopo la scuola? Solito discorso, capacità è stata aumentata dei mezzi pubblici all'80%, nella realtà dei fatti al 160%, i medici della mutua carenti sul territorio, ecco, cure ostacolati, clorochina e plasma per immune, queste sono cose che io dico, ecco, e poi il discorso che il 95% della popolazione italiana porta la mascherina, e questo rientra nella teoria dell'immunità del greggio, perché proteggono anche quelli che la mascherina non la indossano, ecco, e questa è logica matematica, ecco, e sicuri che è sempre colpa nostra, io non ci sto, non ci sto, vabbè, questa qui è una diretta che ho fatto, che poi ho reso privata, sapete che ogni tanto faccio le dirette, le rendo private, ma poi me le conservo, ecco, voglio dire, non tutte le rendo private, alcune, vabbè, questo è un mio amico del Movimento 5 Stelle, che poi è critico col Movimento 5 Stelle, mi ha taggato in un post, ecco, quello lì non l'ho neanche commentato, perché, ecco, voglio dire, ognuno ha la sua opinione, allora, questo qui è una critica selvaggia a Lucarelli, no, che si lamenta dei morti, allora io ho scritto che possono guarire col plasma epidemune, ma mancano le sacche, ne hanno raccolte solo 31 mila, mi sembra, in tutta Italia, per colpa di certi giornalisti, testimoni di Geova, ecco, che da una parte dispiace che muoiono, e si indignano, ma dall'altra invece parlano male, in tv del plasma convalescente perimune, e delle trasfusioni di sangue, e questo è grave, è grave, e nel 2020 si scopre che le trasfusioni di sangue sono pericolosissime, costosissime ed inutili, una cosa straordinaria mai successa, allora, questo è un altro post, no, sulla verità dei sondaggi negli Stati Uniti, non è vero che Biden è al primo posto, questo qui è un sito americano, che fa vedere che non è vero, ecco, mentre i media italiani, ecco, scrivono tutto contro Trump, i media degli Stati Uniti, ecco, questa è la verità, ecco, sapete che, come posto di libertà, l'Italia non è al primo posto nella libertà di informazione, ma è tra gli ultimi posti, mi sembra, proprio perché l'informazione è pilotata ed è falsa, l'unico media a cui va un riconoscimento che sta parlando del plasma convalescente per immune, sono le Iene, che continuano a parlarne l'ultimo servizio del 27 ottobre, ecco, col plasma convalescente per immune si potrebbero svuotare tutte le terapie intensive, perché l'ha detto De Dorno, io non sono medico, ma l'ha detto De Dorno e altri medici, che ovviamente, se tu lo dai, il plasma convalescente per immune, prima lo dai, e meno morti ci sono, più tardi lo dai, e meno è efficace, cioè, come tutte le medicine, se tu glielo dai in fase terminale, quando fanno le sperimentazioni delle medicine sul cancro, perché dicono che non funzionano, perché gliele danno proprio in fase terminale, quando non c'è più nulla da fare, invece, se quel malato paziente lì, con le medicine le prende un po' prima, ecco, ha più probabilità di guarire dal tumore, ecco, capite cosa intendo dire, stessa cosa anche col coronavirus, è ovvio che se tu gli dai il plasma convalescente per immune a uno, che ormai è già entrato in terapia intensiva, di quelle gravi, che proprio è più di là che di qua, ecco, è più difficile che si salvi, anche se si salvano, perché ho visto che si salvano, però può succedere anche che uno non si salvi, ecco, prima si dà, meglio è, questo è il discorso, solo che poi bisogna chiedere al comitato etico, allora c'è un vecchietto di 77 anni, che a Como prima gli hanno detto di no, e poi gli hanno detto di sì, allora, lui ha fatto una domanda per il plasma convalescente per immune, che era in terapia subintensiva, gli hanno detto di no, allora lui è entrato, ovviamente, normale, nel decorso della malattia, è entrato in terapia intensiva, quella lì che ti mettono il tubo in faccia, solo quando è entrato in terapia intensiva col tubo in faccia, il comitato etico ha detto di sì, al plasma convalescente per immune, questo è gravissimo, è gravissimo, allora io auguro che non muoia, però se muore, muore non di coronavirus, ma di mala sanità, allora ecco, vabbè, insabbiamento della protezione civile, io qua insisto, allora il discorso come mai non vengono resi pubblici, ecco, secondo la protezione civile, quanti sono i positivi che sono morti a Bergamo? Ancora non lo sappiamo, noi abbiamo solo il dato regionale, questo è gravissimo, io sono critico con tutti, chicco contro tutti, avete visto no? Ecco, sono, io sono trasparente, non sono influenzabile da nessuno, a me non mi influenza nessun politico, non mi influenza nessun giornalista, nessun divulgatore, non sono iscritto a nessun fan club di squadra di calcio, io sono una persona, come avete visto, trasparente, molto indipendente, molto più indipendente di altri che fanno informazioni, ecco, molto più indipendente, non c'è nessuno che mi tiene legato a me, ecco, che mi deve dire quello che io devo dire, e che devo, posso dire, ecco, vabbè, smart working, andiamo avanti, Marco Cristofori, mio caro amico con cui spesso litigo anche, perché spesso abbiamo anche idee totalmente opposte, ma su questo discorso sono d'accordo con lui, io sono un programmatore, e tra l'altro io, io faccio smart working da sempre, perché io lavoro da casa, io faccio il telelavoro, e qui, ecco, il problema qual è? Che se le grandi aziende, ecco, utilizzano lo smart working, loro vedono che è una cosa bella, se non c'è un sistema del governo a protezione, dello smart working, cosa succede? Che un bel giorno questa azienda si sveglia, no? e assume gente all'estero, e quindi quelli italiani, che magari si scopre quel lavoro lì, si può fare anche con lo smart working, perderanno tutto il posto, la risposta precisa che io ho scritto così, perché magari adesso mi sconfondo un po', perché io l'avevo scritta giusta, ecco, allora, aspetta, ecco qui, io lavoro da casa, sono un libro professionista, però quello che hai detto è vero, se poi scoprono che alcuni lavori si possono fare da casa, li commissionano all'estero, dove la mano d'opera costa di meno, tac, fregati, su questo argomento qui, io ho visto un post che diceva che la Virpul alla fine ha lasciato l'Italia, come ha fatto anche la Fiat, no? E c'era uno che diceva, ma scusate, queste aziende che prima prendono aiuti economici dallo Stato italiano, come la Fiat, e poi spostano la loro produzione all'estero, bisognerebbe mettere delle leggi che vieta loro per 25 anni, per 20 anni, per 5 anni, come se fosse una multa, di vendere nel nostro Stato, e questa è un'idea bellissima, la Virpul sposta la produzione all'estero, allora l'Italia vieta alla Virpul di vendere lavatrici in Italia, per 25 anni, per 5 anni, per 10 anni, 15 anni, lo decide una commissione, perché questa è una cosa veramente scandalosa, se lo facessero tutti gli stati del mondo, allora le multinazionali, grandi aziende, abbasserebbero le ali, io non dico solo l'Italia, tutto il mondo, a tu sposti la produzione, prendi gli aiuti statali, poi te ne vai via, prima prendono gli aiuti statali, poi sposti la produzione all'estero, grande azienda, e allora i tuoi prodotti non possono essere venduti in Italia, ti ho fregato, ti ho tolto il tuo guadagno andando all'estero, te l'ho tolto, il tuo risparmio andando all'estero, te l'ho tolto, dovrebbero farlo anche con Vodafone, con Wind, con tutte le multinazionali, con tutte, questa è una bellissima idea, ecco, l'ho letta su internet, ma è geniale, è geniale, andiamo avanti, allora si ritorna sui trasporti, allora, allora, non chiacchiere, foto, ecco, aspettate, no, aspettate che sono andato troppo avanti, allora, non chiacchiere, ecco, aspettate che, volevo far vedere una cosa, prima, e quindi ritorno indietro, su questo argomento, allora, io, io con Guido, che è un mio amico, ecco, stimo molto, scrive anche cose giuste, solo che lui è un tifoso, eh, dei politici, no, io invece, io sono indipendente, non sono un tifoso dei politici, io guardo le notizie per quello che sono, non mi faccio influenzare da politici di qualsiasi partito fossero, ecco, non me ne frega niente, questa è la situazione, guardate, questa è la situazione a settembre, nei mezzi pubblici italiani, questi sono dati, sono fatti, sono filmati, video, foto, si possono vedere, non si può negare l'evidenza, e qua invece vi faccio vedere la situazione a luglio, a luglio, giugno, questo è giugno, no, situazione dei mezzi pubblici, quando erano al 50% della capienza, e molti mezzi pubblici era vietato stare in piedi, un posto sì, un posto no, così doveva essere anche a settembre, così, dovevano aumentare i mezzi pubblici, ma non il numero delle persone che ne occupavano, ecco, guardate, ecco, così erano, così erano, ecco, io ho fatto la differenza prima e dopo, guardate, così erano, così è giusto i trasporti, così dovevano essere anche a settembre, anche adesso dovevano essere così, non dovevano essere, come avete visto prima, ma così, ecco, anche a settembre si doveva continuare, perché tu metti in sicurezza le scuole, e non mantieni la sicurezza dei posti, dei mezzi pubblici, allora, quando mi fanno le critiche, ah, la Movida, non la Movida, ecco, io, sapete cosa gli rispondo, come è venuto il Covid in Italia? In Italia il Covid è venuto con l'aereo, non con la Movida, com'è venuta in Italia il Covid? Ha preso l'aereo, con l'aereo sono venuti quelli positivi, hanno infettato tutti quelli che si trovavano all'interno dell'aereo, tanto che adesso, per i viaggi esteri, non puoi prendere l'aereo se non fai il tampone, giustamente, perché la mascherina da sola, negli aerei non ti protegge, come non ti protegge neanche nei pullman, perché gli aerei sono tutti coiventati, no, per la pressione, ma anche i nuovi mezzi pubblici che hanno i climatizzatori non hanno più i finestrini, sono tutti coiventati gli autobus di oggi, anche i treni e le metropolitane non hanno più il finestrino, sono tutti chiusi, perché hanno un'aria condizionata, o climatizzata, un impianto di climatizzazione interno, ecco, e quindi, voglio dire, questo impianto di climatizzazione, un caso di epidemia, è peggio di prima, cioè, se noi eravamo negli anni 90, i mezzi pubblici erano meno pericolosi di adesso, perché c'era più ricircolo dell'aria, perché abbassavi i finestrini, invece, ormai, i mezzi pubblici nuovi, aereo, sono tutti come l'aereo, e quindi l'aria viziata che uno respira all'interno, è quella lì, hai voglia di metterti la mascherina, respiri l'aria viziata col virus, è come stare in ascensore, con positivi covid, ecco, è più alto il rischio di prendersi il coronavirus, ecco, è proprio, è a livello altissimo di contagio, tanto che, come è arrivato il virus in Italia, con l'aereo, non con la movida, non è che da un bar all'altro il virus si è spostato, e ha impiegato mesi, non anni dalla Cina ad arrivare in Italia, no, era dentro l'aereo quando è arrivato il virus, perché? perché nell'aereo, ecco, è un luogo pubblico, no, è un luogo chiuso, mi sto sconfondendo, è un luogo chiuso, non chiuso, ancora di più, chiusissimo, sigillato, dove uno respira sempre l'aria che respirano, che gli altri, se c'è il virus, te lo becchi, mascherine, non mascherine, te lo becchi, te lo becchi, dai, allora continuiamo con questa diretta, così la chiudo? Allora, mi dispiace dover tornare sempre sugli stessi argomenti, queste sono le cose che ho discusso in questi tre giorni, ecco, vabbè, con Guido ho avuto una lunghissima discussione, vabbè, qua fa la diretta delle tasse, niente, dai, credo di aver trattato tutti gli argomenti, su questo che è fresco, dovrò infierire ulteriormente, perché mi sono fermato a questa ricerca qui, ecco, potrei essere contestato facilmente, quindi, ecco, devo trovare qualcos'altro ad aggiungerci, ecco, sapete come sono io, sono proprio uno che va a infierire, no, perché sono una persona che è indipendente, a me nessuno mi controlla, nessun, non ho dei fan club, non sono iscritto a nessun fan club, avete visto, io sono un'anima libera, ecco, un'anima libera da tutti, ci vediamo alle prossime dirette, ciao a tutti!